Buonasera, ben ritrovati al consulato appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite in studio il segretario della consulta veneta delle proprietà collettive, Stefano Lorenzi, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Quando si parla di consulta veneta delle proprietà collettive il pensiero va subito alle regole in modo particolare, ma non sono solamente le regole e se si parla di territorio, di proprietari del territorio, il pensiero va inevitabilmente a Vaia, del quale proprio in queste giornate ricorre il primo anniversario. Molto colpite quindi proprio le proprietà collettive, in che misura? Nella parte alta soprattutto della provincia di Belluno Vaia ha colpito anche a fondo e anche in modo consistente varie proprietà collettive, varie regole, vari boschi, tanto che alcune regole sono state veramente affrante, decimate, territori decimati dal ciclone e quindi sono state messe in ginocchio alcune realtà. Quali sono le conseguenze di un tornado come questo? C'è una prima conseguenza che è quella del fatto che ci sono tantissimi aberi a terra, il ciclone ha abbattuto boschi interi. La prima cosa da fare è il recupero possibilmente di tutti questi, le chiamiamo schianti, di tutte queste piante schiantate, recuperarle in tempi anche brevi perché se le recuperi entro diciamo un anno dall'evento il valore del legname si mantiene, non degrada e per cui riesci a venderli anche a un prezzo buono. Più che il valore è la qualità del legname, perché il valore è sceso, diciamo la qualità del legname non è deteriorata, quindi lo si riesce a vendere ancora a un prezzo buono. Passato un certo periodo naturalmente la natura fa il suo corso, il degrado e la decomposizione della materia del legno prosegue, per cui se si recuperano questi alberi vanno a finire in centrali a biomasse, in legna, producono calore, ma per il proprietario che già ha avuto il danno del bosco caduto non viene risarcito quasi di niente su questo valore. Si può stimare, perché si parlava di più di 100 euro in alcuni casi, adesso non so quale sia la misura che si usa, cosa è a ettaro, a quintale, a metro cubo? Normalmente il prezzo indicato per le compravendite è il metro cubo di legname diabete che è quello prevalente. Avevo sentito 100 euro, erano tanti? Da noi erano tanti, soprattutto anche nel comelico, era un buon prezzo, poi è sceso, è sceso, è sceso e lì inizialmente la comunità, l'associazione delle regole aveva pensato di fare un po' un'associazione, una vendita cercando di calmirare un po' il prezzo, di non abbassarlo troppo, però le situazioni proprio locali sono molto differenti una dall'altra. Ci sono alcuni che hanno avuto pochi danni, alcuni che ne hanno avuto moltissimi, alcuni che sono riusciti già con i loro clienti tradizionali a combinare contratti per la vendita di questi legname, altri no. C'è anche un problema che essendo caduti così tanti alberi in così poco tempo, le ditte boschive per quanto siano presenti un po' su tutto territorio, hanno una quantità di lavoro enorme per riuscire a sboscare, a tagliare e portare fuori queste piante, anche in situazioni geografiche difficili e pericolose, perché un conto è andare a tagliare come si usa da noi gli alberi, prelevandoli uno per uno sul luogo dove vengono segnati, un conto è entrare in un bosco dove gli alberi sono caduti tutti alla rinfusa e quindi hanno ancora nell'essere così alla rinfusa delle tensioni nel legno e nelle spinte che diventano pericolosi, tagli un albero e questo si può muovere in modo diverso, quindi anche le ditte hanno più difficoltà, quindi più prudenza nel tagliare. Infatti si era detto che servirebbero più ditte oppure che le ditte avessero più operai, però il problema per loro è che fra due anni comunque la situazione dovrebbe tornare alla normalità, due o tre anni. Ci vorranno ancora senz'altro almeno due anni per riportare a una certa normalità, normalità nel senso che ci sono dei boschi che oggi non ci sono più delle aree che non sono più a bosco perché sono state abbattute, per quanto verranno pulite, poi è probabile che nei prossimi anni la gestione forestale avrà una quantità, noi chiamiamo di ripresa, cioè di legname che tu puoi prelevare dal bosco che sarà inferiore complessivamente rispetto a quello che si faceva prima, quindi le ditte boschive che ci lavorano avranno probabilmente una quantità di lavoro inferiore, oggi hanno tanto lavoro, domani è previsto che ne abbiano meno, quindi anche gli investimenti che una ditta boschiva fa in operai, in mezzi, deve un po' pensarci perché se poi in prospettiva il lavoro è caro… Senta, si era parlato di 12 mesi per finire tutto il lavoro, poi quasi subito dopo ci si è resi conto che era una cosa impossibile, 12 mesi di tempo erano legati anche ai finanziamenti o no? La regione aveva dato 12 mesi di tempo inizialmente per due motivi, il primo perché dopo un ciclo stagionale c'è la possibilità che emergano parassiti quali il bostrico, il bostrico è un parassito, è un cleotico, un parassita del legno che attacca le piante già deboli o anche le piante non direttamente cadute ma che hanno subito degli stress, quindi si sono indebolite da questo fenomeno e le porta a morire, per cui da un primo momento in cui c'è stato un grande danno fatto dal ciclone, in altre zone d'Europa si è visto che negli anni successivi questo parassita intacca piante e ne cadono magari altre tante, ne muoiono altre tante, per cui uno dei timori della regione era dire cerchiamo di prevenire il più possibile questo, come farlo? Cerchiamo di togliere tutto quello che è possibile dal bosco per evitare il propagarsi di questi insetti, di questi… Ha una viralità importante questo bostrico? Sì, ciclica, però è legata molto anche all'innalzamento un po' del clima generale, per cui dove ci sono anche stati calde così tende a moltiplicarsi di più. Ma i soldi sono arrivati, perché per i comuni so che sono arrivati là dove la proprietà del bosco del comune, ma le regole o comunque le proprietà collettive ricevono direttamente i soldi oppure è il comune che fa l'investimento? Allora, la regione, in particolare la VEPA che è l'agenzia che si occupa di questa materia, è riuscita a raccogliere un budget importante per fare fronte a questo problema. Ha emesso dei bandi, il primo è stato nell'estate 2019, ce ne saranno altri due nel 2020 e nel 2021, in cui i singoli proprietari, i singoli soggetti interessati e danneggiati possono ricevere un rimborso pari a una percentuale dei soldi che hanno speso per portare fuori il materiale. Quindi la regione non è che ti dai soldi per farlo, tu intanto lo fai, lo fai a tue spese e poi la regione ti riconosce un rimborso. Un percentuale, non il 100%. Non il 100%, quest'anno è stato il 30%, loro vanno in base alla disponibilità che hanno e alle domande che sono arrivate. Nella provincia di Belluno, in prevalenza, ma diciamo in tutto il Veneto, in questa prima misura forestale sono arrivate domande per circa 30 milioni di euro. La regione ne paga 9 più o meno, quindi un 30%. Buona parte di questi soldi vanno alle regole che hanno investito i loro soldi per andare a ripulire i boschi. Sono arrivati circa 9 milioni di euro a tutta la regione, dei quali un 5 milioni e mezzo in particolare per le regole. Sì, e questo naturalmente non bilancia l'intervento perché il resto saranno il ricavo della vendita, però ci sarà una perdita. In generale c'è una perdita, sì. E allora parliamo dei bilanci, perché si lavora molto, si spendono tanti soldi, ma i bilanci langueranno soprattutto negli anni futuri perché si potrà tagliare meno, è corretto come regione mentale? Sì, sì. Ora ci si trova con grandi spese per l'esbosco, quindi anticipare forti somme di denaro per la pulizia del bosco, che hanno dei ricavi che sono proporzionati, non più come prima, proporzionati al valore del legname, ma di un mercato in cui il valore del legname è calato, perché essendo tanto legname sul mercato, poi chi lo compra tende a pagartelo o meno, in prospettiva negli anni a venire ci saranno una riduzione nelle quantità di alberi che la regione ti lascia tagliare secondo i piani di assestamento e quindi anche un assestamento dei bilanci in questo, per quello che le comunità regogliere è opportuno che tentino di differenziare gli introiti, quindi non solo da legname, ma se possibile magari da affitti, da altre attività in modo da poter sostenere i bilanci che poi vengono sempre reinvestiti sul territorio, quindi ritornano di nuovo al bosco. Senta, non so se le faccio una domanda che è un po' prematuro fare, ma siccome le regole o comunque le proprietà collettive tra le loro importanti direzioni è quella della cultura e coltivazione del bosco, si è notato là dove erano presenti le regole che hanno fatto la coltivazione del bosco, lei ad esempio arriva da Ampezzo, io so che lì c'è una scienza per quanto riguarda la coltivazione del bosco, oppure era veramente talmente forte l'uragano che ha colpito indipendentemente anche da questa cura? È stato molto forte, in alcuni casi si è visto, perché è stato molto a spot, a macchie il tornado, in alcuni casi si è visto che la differenziazione e il tipo di digestione forestale che si usa da noi, che è considerato il tradizionale taglio cadorino, quindi non il taglio del bosco, scegliendo come fanno in Austria un'area e disboscando tutto con un taglio a raso per poi far crescere da noi, è un taglio selettivo, si selezionano solo certe piante mature all'interno, quindi la struttura del bosco, le varie età degli alberi rimangono molto variabili, quindi rimane forte come consistenza dell'ecosistema, questo ha tenuto in alcuni casi, in altri casi no, ci sono stati esempi per esempio nel Comelli con la Valbisdende dove il bosco era gestito, mantenuto da secoli, mantenuto anche appunto con questi criteri di grande naturalità, ma quando il vento arriva a 180-200 km all'ora non c'è servicoltura che tenga, lì purtroppo cade tutto Senta, voi siete coinvolti nei prossimi appuntamenti, adesso parliamo in modo particolare di cortina per i mondiali e per le olimpiadi, visto che molti terreni sono di proprietà delle regole Per i mondiali 2021 in particolare siamo stati coinvolti, molti interventi sono stati fatti in realtà su proprietà comunale, altri riguardano la proprietà delle regole, in particolare un nuovo impianto di risalita che collega il comprensorio della Tofana, Pocol, con il comprensorio delle 5 torri, un progetto che era in mente degli operatori da un bel po' di anni e che adesso attraverso queste facilitazioni anche economiche che arrivano dai mondiali potrà essere realizzato, tra l'altro inizieranno i lavori nel corso di questo autunno. La proprietà è proprietà regoliera, per cui noi anche dobbiamo fare tutte le procedure che prevede la legge e il nostro statuto per concedere questi beni. Che non sarà a titolo gratuito, immagino, ci sarà un compenso. Noi concediamo i beni e come contropartita c'è la richiesta di un corrispettivo o di un affitto che poi noi riutilizziamo reinvestendolo sempre sul territorio. Sì, ma è una domanda magari oziosa e forse troppo tecnica, ma la proprietà riguarda solamente il calpestamento, il calpestio del terreno o riguarda anche la parte aerea e quindi se transita sopra un impianto comunque deve esserci l'autorizzazione delle regole? Sì, sempre. Tutto quello che è, fotografandolo dall'altro, un'occupazione di terreno deve essere intanto compensato. La legge ci impone che ogni metro quadro che noi sottraiamo all'attività agro silvopastorale deve essere compensato con il vincolo alle attività forestali di un altro metro quadro, quindi altri terreni che vengono vincolati perché la consistenza complessiva del territorio rimanga quella. Oltre a questo la società che svolge un'attività economica su quel terreno ci riconosce un affitto, in particolare sugli impianti, la fascia dell'impianto viene considerata come occupata e quindi si paga un affitto sulla fascia dell'impianto. Allora, noi potremmo parlare di regole anche perché forse è l'istituzione più conosciuta in provincia, che ha una tradizione incredibilmente affascinante, però è la consulta veneta delle proprietà collettive. Tra le proprietà collettive ci sono anche gli usi civici che hanno avuto una modifica importante e che può essere letta positivamente o negativamente e poi dipenderà dall'opera dell'essere umano. Di che cosa si tratta? Nella realtà degli usi civici è una realtà simile alla realtà regoliera, nel senso che sono beni di comunità. Nel caso degli usi civici nel Veneto ce ne sono molti esempi, forse da noi un po' meno rispetto agli esempi delle regole. Si tratta di beni di proprietà o di una frazione o di un comune che possono e spesso vengono gestiti da comitati frazionali, li chiamano ASUC, amministrazioni separate di uso civico. Quindi la comunità si amministra il bosco con un bilancio che è separato rispetto al bilancio comunale. Questi soggetti sono sempre stati, diciamo da quasi un secolo, considerati soggetti di diritto pubblico perché erano emanazioni di una comunità che veniva dal soggetto comunale. La legge nazionale sulle proprietà collettive del 2017 dice che tutti i beni di proprietà collettiva e tutti questi enti che rappresentano la proprietà collettiva, li chiamano enti esponenziali, hanno personalità giuridica di diritto privato. Questo cosa vuol dire? Che la Regione Veneto adeguandosi a questa norma nell'estate del 2019 ha specificato che anche i beni di uso civico, come già prima le regole, hanno personalità giuridica privata. Significa che questi beni possono essere gestiti con un'amministrazione fiscale e amministrativa di tipo privato. Può essere un bene, può essere un male, dipende dalla capacità poi di chi è il soggetto che va ad amministrare. Diciamo che sempre nei limiti della follia italiana la burocrazia dovrebbe essere un pochino meno pressante. Nella gestione privata è più facile se gestisce come un'azienda privata, quindi non c'è tutto il vincolo della burocrazia, quindi è un po' più snello. È vero che dall'altra parte, essendo un bene collettivo, essendo un bene di tutti, non mio o di un'azienda, ci vuole la responsabilità di chi amministra, pur essendo in modalità privata, di fare l'interesse collettivo, quindi di non andare a fare l'interesse di Tizio Caio, ma di prediligere e perseguire l'interesse della comunità stessa. Là dove non arriva la ragione, arriva la necessità. Parliamo di spopolamento del nostro territorio. Evidentemente anche questo tipo di comunità familiari devono sopportare il calo di popolazione, perché smagriscono anno dopo anno. Per fare questo bisogna cercare di fermare, di opporsi a questa situazione, bisogna cambiare un po' gli statuti, in modo particolare a Cortina, so che l'hanno già fatto anche da altre parti, ma visto che lei è un abitante ampezzano, si stanno rivedendo gli statuti, vero? Si stanno rivedendo gli statuti dei... Quante sono le regole? Le regole a Cortina sono 11, le chiamiamo due regole alte, nove regole basse, le regole alte gestivano e gestiscono i pascoli di alta quota, le regole basse i pascoli di media quota. Hanno degli statuti molto vecchi... Che sono i laudi, no? Che noi chiamiamo laudi e le ultime versioni risalgono alla fine degli anni 70. Tutte le regole sono riunite a Cortina in una comunanza, che è quella che poi gestisce la maggior parte del territorio e gestisce anche il parco, però le singole regole che hanno un valore storico e ancora di attualità, avendo questi statuti, fino ad oggi prevedono che gli aventi diritto, cioè noi li chiamiamo i consorti regolieri, quelli che condividono la stessa sorte, siano solo i capi famiglia, per cui solo i padri o addirittura i nonni e quindi oggi in una società dove la componente giovane è comunque importante, in cui il corso della vita si allunga, è importante che vengano coinvolti nella gestione anche delle singole regole anche i giovani. La proposta che è al tavolo dell'esame e probabilmente verrà approvata entro l'autunno in tutti i singoli laudi è l'apertura anche ai giovani, quindi anche ai figli e ai nipoti dei regolieri, in modo da svecchiare un po' la comunità. Per avere anche forze nuove, creare tradizione, cultura e tutto quello che si può dire. Perché è importante soprattutto il lavoro che la gente ci mette, la passione e il tempo e le idee e le capacità che ognuno può metterci, che sia più anziano o più giovane. L'importante per le regole e per la vita di questa comunità è che ci siano persone che ci credono e che ci lavorano poi. Senta, io ho avuto la fortuna di parlare con alcune persone che mi hanno raccontato un pochino, erano i meccanismi che regolavano queste proprietà collettive negli anni passati, ma c'è un libro, un testo di riferimento dove uno in modo molto succinto può avere le regole come era ad esempio lo sfalcio, la gestione del bestiame, l'organizzazione amministrativa che cambiava il caporegola di anno in anno, come veniva sopra. C'è un libro, perché è veramente molto interessante. Ci sono libri scritti in varie comunità, ogni comunità ha la sua storia, quindi i suoi libri. Da noi in Ampezzo c'è il libro di Ceni Storici sulle regole di Ampezzo di Giuseppe Ricchia Buono, che è stato un grande appassionato, un grande storico della nostra comunità. Ma è abbordabile anche da un lettore medio? È abbordabile, è molto divulgativo. Il libro è fuori commercio, però è consultabile in pdf sul nostro sito regole.it si trova questo e anche altri libri che riguardano un po' tutti i vari tipi di attività, quindi lo sfalcio, il legname, le attività domestiche, le attività della campagna eccetera. Anche la solidarietà era contemplata in questo tipo di regole, se succedeva qualcosa a qualche regoliere gli si andava incontro alla perdita di una bestia. Sì, lo si fa anche oggi. Animali che muoiono sul Pasco dalle regole vengono indennizzati dalle regole. Recentemente emerge un po' il problema, per esempio, dei lupi anche dalle nostre parti. Le regole sono disposte a risarcire eventualmente capi di bestiame. Una sollecitazione che posso fare è informatevi perché è una storia incredibile, è una intuizione del come si può sopravvivere. Mettendola sul tragico potremmo dire che le regole ci salveranno, se torneranno soprattutto ad essere quelli che sono stati. Ringrazio Stefano Lorenzi che è il segretario della Consulta Veneta Proprietà Collettive, come abbiamo scritto qui nel nostro cartello. Buon lavoro. Grazie. Grazie a voi per averci seguito e buona serata.